Allora, buonasera a tutti e ora vi farò il video che io sono sempre la ragazza, la bambina di prima e ora io vi farò vedere il tatuaggio fatto su di me Ok, allora iniziamo Utilizziamo questo Io lo prendo e lo sparmo sul mio braccio, dopo mi devo fare il tatuaggio Questo è il coso per fare per la faccia te lo sparmi per farlo sembrare vero Ok Poi prendiamo una matita nera blu come voi desiderate e andiamo a fare il disegno Ah, mi sono dimenticata una cosa ora vi farò salutare da mio nipote Saluta, presenta Dove stai andando? Poi prendiamo un'altra matita come noi desideriamo Io la desidero rossa E andiamo a fare l'altro pezzo del disegno Ok Poi prendiamo un verde e andiamo a fare il ramascello Così Poi prendiamo i colori che già avevamo utilizzato prima e lo coloriamo Colorato viene ancora più bello Poi Poi voi giustamente potete fare il disegno che volete voi giusto? Io ho preferito farmi un fiore Voi potete fare anche gli altri vostri disegni che voi preferite non per forza il fiore Però se a voi vi piace il fiore osservate bene come si fa e poi lo fate Un attimino Ok Ok Io l'ho voluto fare di diversi colori Poi ovviamente dovete scegliere che colori potete dove volete fare Ok così io l'ultimo petali ragazzi lo faccio viola ok poi noi per non fare togliere il il coso che abbiamo fatto sparmiamo questo ok allora ok io ho finito di fare io ho finito e come sempre ci rincontriamo al prossimo video ciao 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 ciao